Paolo Cornelio, l'abbiamo già visto ieri, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, ci parla del monitoraggio della colonizzazione spontanea della vegetazione erbacea pioniera sul vaccino di fitodepurazione. Buongiorno a tutti, la nostra è un'esperienza micro, il fatto che gestiamo canali non di grandi dimensioni, artificiali, e quindi anche il nostro monitoraggio è stato effettuato a livello micro in questo senso. Rapidamente vi richiamo, come facevo ieri, il contesto, quindi dove siamo. In giallo c'è il bacino scolante della laguna di Venezia, in grigio il comprensorio di competenza del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. I finanziamenti per i nostri progetti, come vi dicevo, arrivano dal piano direttore 2000, che è il piano della Regione Veneto per il risanamento della laguna in termini di qualità dell'acqua, e quindi il finanziamento appunto è regionale. E questa è un'immagine dei progetti di riqualificazione fluviale realizzati al Consorzio negli ultimi vent'anni. L'insieme di questi progetti ci ha permesso recentemente di vincere il, credo, più prestigioso premio che ci sia in Italia sulla riqualificazione fluviale. Molto di recente, ieri, come vedete abbiamo già iniziato a vantarcene, e lo faremo a lungo, non so se meritatamente, ma spudoratamente di scuro. In blu, qua, vedete l'intervento sul rio Rusteghin, che è l'intervento che vi presento adesso. Si tratta di, questa è la rotonda pre-intervento, come dicevo, accennavo anche ieri, non è un'area prioritaria per noi, ne so che non vorremmo ridurci a fare riqualificazione fluviale all'interno delle rotonde, ma in questo caso abbiamo sfruttato anche questa possibilità. L'intervento è di questo tipo, il Rusteghin veniva da qua ed entrava direttamente in questo che è il fiume Zero. Adesso invece, prima di entrare nel fiume Zero, fa questo percorso, il disegno non è casuale, se notate, siccome l'uscita è qui, è cercare di far percorrere all'acqua il percorso più lungo possibile, realizzando anche delle zone a diversa quote. Questo è il progetto di per sé, ma insomma sopra si vede già la realizzazione. Allora, il punto di partenza ci ha dato l'occasione per un monitoraggio interessante, perché come vedete alla fine degli scavi la situazione in termini di vegetazione era assolutamente zero e quindi ci interessava capire cosa succede nel momento in cui non andiamo a fare nessun tipo di intervento, quindi né di semina né di impianto di specie erbacee e nessun tipo di manutenzione nei primi anni. Quindi questo è quello che siamo andati a monitorare. Questo poi è stato lo sviluppo delle nostre golene che, come vi dicevo, hanno pendenze e quote diverse. E per andare nello specifico, un dato che ci ha subito colpito, il monitoraggio è durato due anni, quindi sei stagioni, perché ovviamente abbiamo escluso i due inverni. Alla fine del monitoraggio la colonizzazione spontanea ci ha portato ad avere 137 specie diverse all'interno di un'area che, come vedete, è di piccole dimensioni di fatto. Quindi già questo è un risultato sorprendente, tra l'altro con molte famiglie legate agli ambienti umidi e anche di un certo pregio. Il lavoro è stato svolto in questo modo. Abbiamo individuato 18 zone diverse da campionari in modo da avere più repliche e poter ottenere dei dati medi all'interno delle nostre golene. In questo caso vi presento il risultato di un'unica zona, ma perché è quella che, come dire, testimonia meglio quello che è il risultato medio di tutto questo rilievo. Quindi la zona 1, che si presentava così all'inizio del monitoraggio, quindi alla fine degli scavi del progetto. Nel primo periodo di monitoraggio, quindi nella primavera 2016, il numero di specie presenti, quindi quelle che sono arrivate subito, erano semplicemente 10 e coprivano l'1% della nostra golena. Alla fine del monitoraggio le specie erano 49 e la copertura era del 90%. E queste sono le immagini un po' di come si è evoluto questo pezzo delle nostre golene. Se andiamo più nello specifico, le prime specie che sono arrivate comprendevano sia specie prattive che specie di ambiente umido. Quindi c'era un mix, erano poche, ma ce n'era qualcuna di un tipo o qualcuna di un altro. Quindi qualcuna probabilmente arrivava dall'acqua, qualcuna invece dalla campagna retroscante. Invece poi nell'autunno del 2016, quindi alla fine della prima stagione vegetativa, con un incremento sia in numero di specie, chiaramente, che di percentuale di copertura, ci sono state appunto trovate 32 specie, però con una prevalenza di specie ruderali, quindi di fatto di alte erbe, quelle che da un punto di vista meramente psicologico, creano più pressione a un consorzio di bonifica, perché tutto il mondo vuole che tagliamo l'erba alta e dice che ci siamo dimenticati della golene una volta fatto il lavoro. Se pensate che il nostro intervento era all'interno di una rotonda, con tutta la gente che passa intorno, ecco, il fatto di poterlo raccontare è già una soddisfazione. Detto questo, per fortuna le cose si sono evolute molto rapidamente, anche molto più rapidamente di quanto ci potessimo aspettare. Quindi nella primavera 2017, quindi nella prima stagione del secondo anno, già incominciano ad arrivare delle specie interessanti e legate agli ambienti umidi, che non erano presenti nel primo anno. Tra queste, per esempio, la tifa l'Axmani, che nei nostri ambienti è la terza delle tiffe, le prime due lattifoglie e angustifoglie sono le più diffuse, questa è sicuramente la specie più delicata e protetta e il fatto di averla ritrovata nella nostra area umida in mezzo a questo roteare di automobili è stato sicuramente sorprendente. E nel giro di poco tempo, perché, ripeto, si tratta del secondo anno. Già l'estate del 2017 è cambiata la tendenza rispetto al primo anno, quindi quelle che erano le specie ruderali che avevano preso il sopravvento nel primo anno cominciano a cedere il posto a tutta una serie di specie invece molto più vicine all'acqua e anche varie in termini di specie, ma anche di ordini presenti. Quindi, alla fine delle nostre due stagioni di monitoraggio, ripeto, questa è una singola zona, ma è sicuramente buona da prendere ad esempio perché riflette la media di tutte le nostre 18 zone campionate, è che nel giro di soli due anni c'è stata una variazione molto significativa, non solo visiva, perché poi, come vi dicevo, anche le lamentele sono improvvisamente crollate, chiaramente perché abbiamo la fortuna che tutto un pool di specie acquatiche che vivono vicino all'acqua evidentemente anche da un punto di vista estetico preoccupano meno e sono anche effettivamente belle da vedersi e però al di là degli aspetti estetici voglio dire interessante come in pochissimo tempo una componente appunto spiccatamente idrofila sia arrivata senza che, ripeto, si sia fatta nessun tipo di manutenzione all'interno del corso d'acqua. Probabilmente, ma di questo non abbiamo prova, se fossimo entrati a sfalciare l'erba all'inizio del primo anno, le specie, diciamo, centrometriste, quindi quelle che corrono più velocemente le avremmo riportate al traguardo e avrebbero continuato a vincere loro, in qualche modo. Invece così, almeno i mezzofondisti hanno avuto una chance e hanno preso possesso della nostra golena. Allora, per quello che riguarda come dire, lo sviluppo, l'analisi della vegetazione, è chiaro che non possiamo a questo punto, è breve, cioè pensando all'evoluzione della vegetazione, due anni di monitoraggio sono pochi, ma a noi servono come punto di partenza e non siamo in grado ancora di individuare delle vere e proprie associazioni vegetali, però delle tendenze sì, ce ne sono tre in particolare, segnalate poi dai botanici che hanno fatto questo intervento, quindi una parte della nostra area umida va verso il fragmenteto, un'altra parte verso formazioni a carice e un'altra parte ancora invece a formazioni a sparganium. Quindi comunque tre tipologie, in poco spazio, tre tipologie diverse di associazioni vegetali legate all'acqua in maniera caratteristica, in qualche modo. Sempre in merito a una prima analisi vegetazionale, non sono assenti le specie arbore, noi all'interno dell'area umida abbiamo anche delle quote più alte dove sono presenti delle specie arbore, che non sono state indagate, ma anche a livello di golene ce ne sono alcune che probabilmente, avendo delle quote anche leggermente diverse, in questo caso superiori rispetto alle altre, hanno permesso di avere alcune specie arbore che ovviamente si avvicinano di più ai saliceti. E qui potete vedere una di queste in cui il salice sta prendendo il sopravvento. Mentre per quanto riguarda le idrofite, invece sono ancora assenti quasi del tutto, c'è un po' di lemna e poco altro. Anche questo, come poi vedremo nelle conclusioni, però è un aspetto interessante da tenere in considerazione. Fatta tutta questa premessa sul quanto è sano e corretto lasciare alla libera evoluzione le nostre golene, dopodiché i forestali hanno piantato gli alberi. Poi parlo al plurale per codardia in qualche modo, nel senso che le abbiamo piantate deliberatamente, ma è chiaro che avremmo potuto lasciare anche la parte arborea all'evoluzione spontanea, ma si è cercato di accelerare un po' alcune dinamiche, quindi chiaramente piantando delle querce piuttosto che un'ontaneta dove magari all'inizio sarebbero arrivati i salici. Detto questo e vado verso la conclusione, questa analisi è stata accompagnata anche da un'analisi della vifauna, anche in questo caso con osservazioni interessanti per essere un'area di prima formazione e andando alle conclusioni, quindi, quello che si può dire è il numero di specie assolutamente elevato agendo, ripeto, sulle quote, quindi diversificando al massimo quote e pendenze, il numero di specie è comunque interessante, creando di fatto le condizioni. Questa cosa, come dicevamo prima, questo già ve lo dicevo, ha caratterizzato anche il tipo di gestione e lo può fare anche in futuro, abbiamo un mezzo per dire che tutto sommato si può anche evitare tutta una serie di manutenzioni, la biodiversità allo stesso tempo in altri progetti l'abbiamo perseguita invece facendo degli impianti di specie elofite, però magari andando a scegliere non le più comuni ma quelle un po' più rare o in pericolo, quindi non lo escludiamo del tutto. questi dati saranno utilizzati anche poi nel momento in cui avremo dei dati più sicuri sulla qualità delle acque e sarà interessante capire vegetazione e qualità delle acque e infine un aspetto assolutamente non previsto è che appunto nonostante, anzi proprio perché si trova all'interno di un'area con grande pressione antropica questo ha creato molto interesse e questi dati vengono molto utilizzati per sensibilizzare la popolazione rispetto a quello che sta avvenendo all'interno della loro rotonda. Grazie. Grazie. Visto che Paolo è stato così bravo c'è tempo per una domanda una chi ha il microfono prima ho visto la sua prima Santolino Forse è presto ma volevo chiedere se innanzitutto complimenti perché un atteggiamento coraggioso è una spiegazione della normale evoluzione della vegetazione e della competizione tra le specie la cosa che volevo chiedere se dal momento che sei all'interno di una inevitabilmente di un'area con un certo livello di traffico se avete rilevato o se rilevate delle interazioni quindi degli incidenti con le automobili e con le specie sia da un punto di vista del credo che i primi che le prime specie che hanno colonizzato sono state sicuramente gli uccelli credo quindi da un punto di vista dell'inquinamento sarà senz'altro interessante valutare quanto e in che modo effettivamente non era previsto ma è uno stimolo sicuramente che terremo in considerazione per essere più specifici sugli incidenti ne abbiamo già avuti perché in una parte non c'era il guardrail e quindi sono già finite in acqua qualche auto l'unico dato statistico che abbiamo è che questo avviene di notte che è l'unico dato non a caso forse adesso il guardrail c'è e quindi questo no no io si scherzavo su vicino si si era dicevo il contrario cioè la interazione tra le specie animali e il traffico per cui in alcuni casi sarebbe opportuno fare una sorta di riparo sì beh diciamo le piante come avete visto arbore non sono di grandi dimensioni ma c'è una parte dell'area umida che è occupata da specie arbore quindi in una certa misura ci prevediamo che facciano una sorta di mascheramento almeno per i bacini interni dopodiché mascheramenti un po' più massicci non sono poi di nostra competenza non so se se possiamo non so dare notizie in questo senso ma è un aspetto che magari nel tempo sarà interessante valutare grazie grazie mentre grazie